Ciao a tutti, sono Riana Ramunno e sono qui per parlarvi del mio luogo del cuore, la funivia di Monticchio. Proverò a spiegarvi che cos'è Monticchio con poche descrizioni che vi faranno capire che è davvero un paradiso naturale. Immaginate un vulcano spento, perché il Monte Vulture è un antico vulcano spento nel cui cratere si sono formati due laghi e tutto attorno una vegetazione rigogliosa per via del terreno che è molto fertile. E immaginate il più piccolo dei laghi, verde, rotondo come un occhio, un piccolo smeraldo su cui si riflette una abbazia benedettina bianca completamente costruita nella roccia. Ecco, spero di avervi dato l'idea di che cos'è Monticchio, è davvero un quadro, un paradiso e un tempo questa parte bassa dove ci sono i laghi era collegata alla punta del monte, alla vetta del monte con una funivia. Ora, fatalità, io questa funivia non ho mai potuto vederla, perché nel 1980, che è l'anno in cui io sono nata, è stata completamente dismessa. Ed è per questo che l'ho scelta come luogo del cuore, perché non mi dispiacerebbe, anzi, mi piacerebbe tantissimo poter salire su quella funivia, arrivare fino in alto e guardare lo spettacolare paesaggio che si distende davanti ai miei occhi. Potete aiutare noi lucani ad avere di nuovo la funivia di Monticchio, andando a votare la funivia di Monticchio come luoghi del cuore sul sito del FAI. Basta solo un click. Ciao!